Domenica 10 ottobre parte il campionato di A2 femminile, il volley soverato esordirà in casa, ospiterà al bese Volleicomo, quindi si parte con tanto entusiasmo dopo due lunghi mesi di duro lavoro con Scenapolitano. Sì, l'entusiasmo purtroppo non basta, nel senso che se fosse solo per quello saremmo tutti primi in classifica. Abbiamo lavorato tanto, questo sicuro, purtroppo non sempre nelle condizioni migliori perché abbiamo avuto un po' di disagi, la società ha cercato di ovviare a questi disagi nel miglior modo possibile, però sicuramente la preparazione è stata un po' condizionata da questo. È una squadra, tra l'altro, nuova per cui siamo voluti ripartire quasi da zero, come spesso capita. È una squadra molto eterogenea, con livelli di prestazione abbastanza diversi, sia per questione anagrafiche ma anche per background tecnico. Quindi ci sarebbe stato forse bisogno di un pochettino più di tempo. Palleggiatrici molto giovani, a maggior ragione, forse avremmo dovuto cominciare prima, ma ovviamente non era possibile. Quindi faremo quello che è nelle nostre possibilità, laddove sicuramente abbiamo fatto tanto e abbiamo fatto anche tanto bene. Però non so se basta. Poi dall'altra parte c'è un avversario che gioca insieme da tanto tempo. Alvese è una squadra con un'ottima palleggiatrice, è un'opposta greca al primo anno in Italia, ma che dai video che abbiamo visto ha delle buone efficienze, due bande rodate, Zanotto e Pinto. Quindi è una squadra quadrata, ma in Serie 2 l'esperienza ci ha insegnato che squadre materasso non esistono. Quindi abbiamo il vantaggio di giocarcela in casa, cercheremo di fare il meglio possibile, soprattutto considerando che durante la settimana abbiamo provato delle cose che potranno essere determinanti per ottenere il risultato. Poi come sempre dico, l'importante è non rimproverarsi nulla alla fine, se la prestazione è sufficiente a vincere la partita saremo tutti più contenti. Campionato suddiviso anche quest'anno in due gironi, il Soverato è stato inserito nel girone B. Sarà un campionato molto intenso, lungo come quelli precedenti, quindi servirà l'apporto di tutte le ragazze. Dicevi tu in precedenza, squadra molto giovane, ampiamente rinnovata, ma è una squadra che anche negli allenamenti congiunti pre-campionato comunque ha fatto intravedere delle buonissime qualità tecniche. Guarda, due situazioni, la prima è che anche quest'anno come gli altri anni ci troviamo a viaggiare tanto, perché sulle 11 trasferte che abbiamo, due le possiamo fare in pullman, le altre nove dobbiamo farle in aereo, quindi le altre otto. Quindi questo sarà determinante anche per un discorso di carico-scarico, di gestire i livelli di forza e lavoro. La seconda domanda che mi facevi, io più che il discorso della giovane squadra, quest'anno punto l'attenzione sull'eterogenità, una squadra molto eterogenea. A volte mi è capitato di lavorare con squadre molto giovani, ma con livelli di prestazione o di prestanza in qualche modo omogenei. Quest'anno la squadra è molto eterogenea, la difficoltà sta nel portare più o meno tutte quante a un livello simile per poi cominciare a fare il lavoro vero e proprio. La difficoltà più grande quest'anno forse è stata proprio questa, almeno in questi primi due mesi. Le grandi differenze tra le giocatrici che hanno, oltre che un discorso anagrafico, estrazioni sociali, intese come pallavolo, provenienza, diverse. Per cui la difficoltà forse maggiore è questa, fermo restando che poi comunque sono tutte ragazze abituate al fatto che indipendentemente da quelle che sono le situazioni poi la domenica bisogna giocare e quindi bisogna andare al sodo, bisogna essere concreti e forse la difficoltà sta proprio nel trovare il giusto mezzo tra il lavorare e portare queste ragazze a un livello di prestazione omogeneo e il preparare poi la partita della domenica. Infine un aspetto sicuramente importante è il ritorno del pubblico dopo praticamente un anno e mezzo per via della pandemia in tutti i palazzetti si è giocato sempre a porte chiuse. Quest'anno si ricomincia con una capienza ridotta ma comunque con il pubblico sappiamo l'importanza che riveste per Soverato il pubblico del Palascope. Sì, noi abbiamo anche un po' secondo me in questo momento un po' di disabitudine. si è creata una situazione per cui ci siamo quasi assuefatti alla mancanza del pubblico e tutto ciò che questa presenza comportava soprattutto a Soverato il Palascoffa dove la presenza del pubblico è sempre una presenza molto attiva quindi siamo ben contenti di riassaporare questa cosa che è un gusto che quasi quasi avevamo perso quindi abbiamo anche un po' di curiosità da questo punto di vista per capire che cosa significa ritornare un po' a giocare con il pubblico perché sembra poco ma sono tante partite che abbiamo fatto senza pubblico, tante tante. Quindi ci siamo quasi abituati alla non presenza e questa è una cosa che per noi che facciamo del contatto con la gente o comunque soprattutto in realtà tra virgolette piccola come Soverato facciamo del contatto con la gente un punto di forza per noi sarà un bel ritrovare, sicuramente un bel ritrovare ci auguriamo che sia anche un'affluenza numerosa.